ciao bimbi ciao mamma ciao papà eccoci qui pronti per una nuova e divertente attività allora per questa attività ci occorrerà un contenitore come questo che serve per fare dei cubetti di ghiaccio una pinzetta magari della mamma se si vede bene e poi vario materiale per esempio potremmo iniziare con dei pompon di varia misura ecco qui poi prendiamo il bambino prenderà la pinzetta e cercherà di prenderli e di metterli in un contenitore anche questo piccolo oppure potremmo prendere della pasta magari fatta colorare precedentemente ai bambini di vari colori questo modo 12 oppure ancora potremo metterci degli lastichini colorati come questo i vari colori bambino lo prenderà e lo metterà sempre in un contenitore per rendere l'attività più interessante potremmo pensare di preparare dei bastoncini in questo modo appoggiati su una base io li ho realizzati semplicemente prendendo la base di una candelina ho tolto quello dentro e ho messo tantissima colla e dei bastoncini come questi a questo punto il bimbo potrà prendere l'elastico e metterlo qua dentro questo modo allo stesso modo potremmo prendere i tappi di plastica come questi bambino lo prenderà e potrà sempre infilarlo così qua dentro potrà scegliere magari di farlo in base al colore magari tutti i rossi tutti i gialli e così via buon divertimento allora ciao bimbi